Ciao a tutti, oggi come vedete realizzeremo insieme degli orecchini un po' diversi dal solito. Prima di spiegarvi il nome che ho deciso di dargli, ovviamente devo fare un'importante premessa, e cioè questi sono degli orecchini che si basano sulla tecnica base che è la cellini flat. Però ovviamente io ho dato la mia personale interpretazione, quindi ovviamente ringrazio le creative che ho trovato qui su YouTube, dalle quali ho imparato la tecnica e poi ho deciso semplicemente di realizzare questo tipo di lavorazione per poterne fare degli orecchini, perché come sapete con la cellini flat spesso si fanno delle collane, delle bellissime collane. Innanzitutto qui devo dire che io le misure che ho utilizzato sono 15.0, 11.0 e 8.0, quindi le rocai che noi comunemente abbiamo, ma penso che questa cosa l'abbiano fatta anche altre creative, per carità, non pretendo di essere stata la prima. E poi appunto la fascia è più piccola, è strutturata in questo modo e poi viene collegata a degli anelli, dei cerchi di metallo, in questo caso di acciaio, che appunto misurano 4 centimetri. Ora, come vedete, questi archetti, questi triangolini, in particolare quelli con le 8.0, come vedete vengono un po' bombati, ma è proprio così che si presenta questa lavorazione anche quando si realizza la collana e molti di voi la conosceranno. Quindi ovviamente io vi dico anche che questi orecchini in particolare li ho realizzati con le To, ma io avevo fatto anche delle prove con le Miyuki e anche delle prove in cui ho mixato To e Miyuki, per cui viene sempre, riesce sempre. Io utilizzerò il filo di nylon, ma voi in questo caso potreste anche utilizzare il Firen, anche se come vedete poi qui nel collegamento con l'anello si noterebbe un po' troppo probabilmente il filo, però se la cosa non vi disturba potreste anche usare il Firen se proprio volete. Comunque, un'altra raccomandazione che vi devo fare è quella a riguardo del montaggio di queste fascette, perché appunto siccome da una parte sono bombate, quando andiamo ad unirle ai cerchi, dobbiamo tenere presente, vedete, li dobbiamo mettere a specchio, cioè in questo modo, perché questa è la parte davanti, dove c'è questo perno, questi decini intratto sono comodissimi, hanno il gancio così, sono fantastici, sono d'acciaio, come vi dicevo, ci sono anche argento, ora ve li faccio vedere, però dobbiamo fare attenzione a montarli in questo modo, a specchio, perché poi nel momento in cui li indossiamo dovranno venire con la parte bombata verso l'esterno. E questi sono gli orecchini appunto, perché li ho chiamati Afterglow? Perché questa parola praticamente l'ho scoperta mentre ascoltavo una canzone bellissima degli Spandau Ballet che si chiama Only When You Leave e mi piaceva perché significa, poi in base alle diverse traduzioni, significa gli ultimi bagliori, significa le luci del tramonto, in pratica credo ci sia anche una canzone più recente in chi ha per titolo proprio questa parola, una parola che mi è piaciuta quando l'ho letta. E quindi questi sono gli orecchini Afterglow. Di filo, per fare ciascun orecchino dovreste tagliare 1,60 m ma vi avanzerà. E comunque una parte del filo, come vedrete tra poco, dobbiamo trattenerla, diciamo, libera all'inizio della lavorazione. Poi, questi cerchi di metallo, vi faccio vedere l'altra versione che ho fatto, ci sono anche nella versione argento, ma ripeto, sono entrambi di acciaio e come vedete qui io ho utilizzato due colori diversi di 8.0, perché è ovvio che una volta che prendete confidenza con questa tecnica che potreste averla già provata, quindi magari sapete già benissimo meglio di me come funziona, potrete decidere di utilizzare più colori, sia diversi colori di 11.0, di 15, anche di 8, come ho fatto io in questo caso. Qui ci sono questi fantastici anelli e sempre il discorso di montarli a specchio con le parti bombate che poi andranno verso l'esterno nel momento in cui li indossiamo. Dopo vi faccio vedere anche le altre versioni che avevo fatto con altri tipi di cerchi, che però adesso al momento non saprei dirvi dove reperire, per questo invece ho utilizzato questi qui, che trovate sul sito semplici Bijou. Però ripeto, l'importante è che la misura sia di 4 cm. Ma ancora non devo dirvi altro, avevo preso nota di qualcosa, penso che sia di aver detto tutto e spero ovviamente che vi piacciano. Tra pochissimo vi faccio vedere i materiali che servono, ma sono questi che vedete, sono molto semplici. Vi faccio vedere giusto le altre versioni, come vi dicevo, perché io prima avevo questi cerchi qui, questi sono i prototipi, i famosi prototipi, che mi piace farvi vedere. E qui, anche in questo caso, avevo usato delle Rokai Toho. Vedete questi colori qui sono molto carini, secondo me, e poi avevo fatto una versione in argento anche di questi, che appunto qui avevo usato invece le Miyuki, proprio per fare la prova e potervi dire che appunto l'orecchino riesce in entrambi i casi, sia con le Toho che con le Miyuki. Quindi qui abbiamo tutti i nostri orecchini Afterglow tutti insieme, vi lascio all'elenco dei materiali. A tra pochissimo! Per realizzare gli orecchini Afterglow vi servirà innanzitutto un ago numero 11 della Pony, poi il filo di nylon, un filamento da 0,20 mm. Io mi trovo benissimo per fare il peyote anche con questo filo e ve lo consiglio vivamente. Lo trovate sul sito Semplici Bijou, vi lascio sotto il link nell'info box. Poi serviranno inoltre due cerchi, questi sono dei cerchi che misurano 4 cm di diametro. Ve lo faccio vedere da vicino, così vi rendete conto delle dimensioni. E' importante che abbiano questa dimensione perché seguono la curva della lavorazione che avete visto poco fa. Questi sono in acciaio, sono bellissimi, li trovate sia dorati che argentati, diciamo, sul sito Semplici Bijou. Dovrebbero essere già stati caricati e in quel caso vi metto il link sotto nell'info box. Poi serviranno le rocai. Come vi ho detto, questi orecchini riescono sia con le rocai della Toho che con le rocai della Migou. Io in questo caso ho usato quelle della Toho e queste sono le 15.0 nel colore Perma Finish Galvanized Starlight. Poi serviranno le 11.0 e queste sono nel colore Opac Lastered Turquoise. Poi serviranno le 8.0 sempre della Toho e queste sono nel colore Opac Lastered Cherry. Quindi questo è il necessario e ci vediamo tra pochissimo per cominciare. Ecco, come vedete, io ho sullo sfondo le 15, le 11.0 e le 8.0. Ma iniziamo la lavorazione mettendo sull'ago 6 rocai 15.0. Eccole qui. E dobbiamo portarle quasi alla fine del filo. Ma ci lasciamo un capo abbastanza lungo qui, libero da questo lato. Vi faccio vedere, non lunghissimo così, una via di mezzo, perché praticamente dobbiamo tenerlo poi, questo capo, un po' impigliato nella nostra mano per iniziare la lavorazione. Dobbiamo tenerlo un po' tirato. Vedete questa parte qui così? E praticamente abbiamo le 6 rocai 15.0 e dobbiamo prendere un'altra rocai 15.0 e andarci a inserire, non in questa prima rocai che abbiamo sulla destra, ma in quella successiva. Così si andranno a disporre nel modo giusto. Io adesso tengo il dito davanti perché altrimenti sfuggirebbe tutto. Ecco qui, adesso però vi faccio vedere. Tirando il filo che succede, le rocai si dispongono così. Vi faccio vedere più da vicino. Vedete? Vengono sfalsate. Ora, adesso sempre tenendo tirato il capo qui sulla sinistra con la mano, andiamo a prendere l'altra rocai 15.0. Eccola. E ci andiamo a inserire non nella rocai successiva, vedete che sta dopo il punto in cui viene fuori il filo, ma in quella ancora dopo. Quindi non in questa, ma in quella dopo. Ci troviamo così e tiriamo il filo. Anche qui devo tenere fermo, quindi mettere il dito sopra perché altrimenti se se ne andrebbe tutto in giro. Ed ecco che ci troviamo così. Dobbiamo tenere tirato però il filo sulla sinistra, il capo libero. Ecco qui come ci veniamo a trovare. E poi prendiamo un'altra rocai 15.0 e ci andiamo a inserire. Non in questa rocai che viene dopo, ma in quella successiva che poi è anche l'ultima. In questo modo. E tiriamo il filo. E questa era la parte più complicata di tutta la lavorazione. Perché guardate, dobbiamo tenere tirato. Ci sembrerà un po' tutto storto, ma se lo sistemiamo con le dita ci ritroveremo in questa situazione. Quindi vedete 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ora qui ci sono dei numeri che dobbiamo tenere a mente per facilitarci le cose. Il primo numero da memorizzare era proprio 6, che sono le rocai che abbiamo inserito all'inizio. E adesso dobbiamo tenere presente il numero 4. Ora vi spiego perché. Innanzitutto dobbiamo adesso mettere sull'ago una 11.0. Adesso faremo questo giro diciamo per ritornare giù. Inseriamo una 11.0 e ci andiamo a inserire non in questa rocai ovviamente, ma in questa successiva. Vedete che sporge anche un po' questa qui. E quindi tiriamo il filo. Io devo per forza tenere qui, altrimenti viene tutto via insomma dall'iquadratura. ecco. Quindi tengo il litio davanti. Per adesso sarà così perché è l'inizio che è un po' scomodo. Adesso inserita la 11.0 però ritorniamo a prendere le 15.0 per il resto di questo passaggio. Dobbiamo sempre tenere tirato il filo. Vedete questo qui con la mano sinistra. Intanto ci andiamo a inserire quindi con la rocai 15.0. Non nella rocai che segue, ma in questa successiva che sporge anche un po', quindi sarà semplice. Tiriamo il filo. Adesso già si inizia a vedere meglio. Poi prendiamo l'altra 15.0. Eccola qui. E ci andiamo a inserire sempre non in questa successiva, ma in quella che viene dopo e che sporge anche un po'. Tiriamo il filo. e ci ritroviamo così. Adesso guardiamo bene. Tiriamo bene. Tiriamo da questa parte. Ecco, ci ritroveremo così. Vedete? Si forma una specie di, diciamo, muretto di perline. Adesso andiamo ancora avanti perché dobbiamo risalire. Nel risalire da questa parte mettiamo una rocai 15.0 e ci andiamo a inserire in questa rocai che sporge. E tiriamo il filo. Poi mettiamo un'altra rocai 15.0 e ci andiamo a inserire non in questa rocai che segue, ma in quella successiva che poi sporge. E ne mettiamo quindi due per questa nostra risalita verso l'alto. Tiriamo il filo. Adesso invece in questo spazio qui, vedete, che si crea, che praticamente ci stiamo avvicinando alla 11.0, infatti dobbiamo prendere una 11.0. Eccola qui. Perché dobbiamo iniziare a creare la diagonale, quindi con le 11.0. E ci andiamo a inserire nella 11.0 che già c'è sul lavoro. Adesso tiriamo il filo e si chiarirà meglio la situazione. Ecco qui. Tiriamo il filo e vedete che ci sono le due rocai che si sistemano quasi come una scaletta, queste 11.0 e anche le 15, ma queste sono più evidenti. Adesso che succede? Qui accanto alla 11.0 dobbiamo mettere una 11.0, perché qui verrà la fascia, diciamo, delle 11.0. Prendiamo una 11.0 e ci andiamo a inserire nella 11.0 questa che sporge. e tiriamo il filo. Adesso, siccome dobbiamo continuare la nostra scaletta, dobbiamo anche in questo caso mettere un'altra 11.0. e ci andiamo a inserire nella rocai 15.0 che sporge, non questa, ma questa qui che sporge successiva. Tiriamo il filo e avremo altri gradini della nostra scaletta. Vedete? Ecco qua. Poi, andiamo a prendere invece la 15.0 e ci andiamo a inserire nell'ultima rocai 15.0 che sporge. Tiriamo il filo, adesso guardiamo bene, perché ci ritroviamo in questo modo. Perché vi dicevo del numero 4? Perché adesso andiamo a fare, vedete qui, 1, 2, 3. Per l'ultima volta, qui sotto, mettiamo una 15.0, perché qui dovremo avere 4.15.0 e poi vedrete che si andrà invece a iniziare, dopo questa quarta 15.0, si inizierà, diciamo, la fascia diagonale con le 11. Ma intanto prendiamo una 15.0 e ci inseriamo nella 15.0 che sporge qui risalendo nel lavoro. Adesso prendiamo una 11.0, perché dobbiamo completare la diagonale, completare la nostra scaletta e ci andiamo a inserire nella 11.0 che sporge. Poi ancora prendiamo una 11.0 e ci andiamo a inserire nella 11.0 che sporge. E ci ritroviamo così. Adesso prendiamo una 11.0 e ci andiamo a inserire, riscendendo verso il basso, nella 11.0 che sporge il successivo. Ovviamente il filo lo dobbiamo tenere tirato, soprattutto in questi cambi, diciamo, di direzione. Ecco qua, cioè quando andiamo verso l'alto e quando poi ridiscendiamo verso il basso. Adesso, altro numeretto da memorizzare. Qui abbiamo completato con le 15, come vi dicevo, con 4.15, perché questa è la base iniziale. Invece qui, vedete, abbiamo 3.11 e questo ci deve servire, questo numero 3, sempre come riferimento per la nostra lavorazione, perché la nostra fascia diagonale con le 11.0 sarà composta da 3 rocai per parte. Adesso vediamo piano piano. Infatti, prendiamo un'altra 11.0 e ci andiamo a inserire nella rocai 11.0 che sporge. E tiriamo il filo. Così. Poi prendiamo un'altra rocai 11.0 e ci andiamo a inserire nell'ultima rocai 15.0 che sporge. Ecco qua. E quindi si è composta, diciamo, lungo tutta la linea la nostra scaletta di rocai 11.0. Eccola qui. Però, dobbiamo adesso prendere ancora un'altra rocai 11.0 e andarci a inserire per risalire su nella rocai 11.0 che sporge a partire dal basso. e risaliamo. Risaliamo e ci troviamo così. Vedete, adesso abbiamo la scaletta completa. Qui da questo lato, però, qui la dobbiamo ancora completare. Vedete, di nuovo ritorna il numero 6, perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Invece qui in larghezza sarà, diciamo, di 3 rocai. Ci vediamo tra pochissimo per continuare. E adesso, infatti, continuiamo prendendo un'altra rocai 11.0 e andandoci a inserire nella rocai 11.0 che sporge. Tiriamo il filo, stiamo risalendo verso l'alto. Vedete che adesso è più chiaro, ovviamente, le rocai sono più grandi, è tutto più semplice. Poi prendiamo un'altra rocai 11.0 e ci andiamo a inserire nella rocai 11.0 che sporge, che è quella proprio che si trova in alto. Adesso cosa succede? Come vi dicevo, dobbiamo tenere presente il numero 3? Abbiamo 1, 2, 3 rocai 11, ma adesso ci dobbiamo fermare, perché dobbiamo inserire le 8.0. Quindi prendiamo, in questo caso, la 8.0. Eccola qui, rossa. E ci andiamo a inserire, tenendo ben tirato il filo. Vedete, adesso possiamo anche mollare un po' il capo, diciamo, qui sulla sinistra, ma comunque io continuo a tenerlo, vedete, con le mani qui, appunto, con la mano sinistra. Intanto prendiamo l'auto.0 e ci andiamo a inserire nella rocai 11.0 che sporge e tiriamo il filo. Poi prendiamo, adesso vedete, una rocai 11.0. Perché? Perché noi qui abbiamo tre rocai 11, qui abbiamo tre rocai 11, ma qui ne abbiamo solo due. Invece dobbiamo completare la fascia di tre. E quindi per questo ci ricorderemo di prendere la 11.0 e ci andremo a inserire nella rocai che sporge questa qui successiva. Poi prendiamo un'altra 11.0 e ci andiamo a inserire nella rocai che sporge qui sotto successiva. tiriamo il filo. Poi ci dobbiamo chiedere, qui è completata la linea di tre? No. Quindi vuol dire che dobbiamo inserire l'altra 11.0 e andare a infilarci tenendo il filo tirato nella rocai 11 che sporge andando dal basso verso l'alto. e tiriamo il filo e mettiamo un altro piccolo mattoncino nella nostra scaletta. Poi prendiamo ancora un'altra 11.0 perché qui, vedete, non è ancora completa la linea di tre. E quindi ci andiamo a inserire in questa rocai che sporge successiva andando dal basso verso l'alto. e adesso invece qui abbiamo la lineetta di tre, diciamo, rocai 11.0 e quindi vuol dire che dobbiamo inserire la 8.0. E prendiamo la 8.0 e ci andiamo a inserire qui nella 8.0 che si trova in alto e che sporge tra l'altro. Tiriamo bene il filo e ci troviamo così. Adesso prendiamo ancora un'altra 8.0 perché è presto per fermarci con la 8.0. Quindi scendiamo giù e ci inseriamo nella 8.0 che sporge. Vedete il lavoro come sta avvenendo? Tiriamo il filo. Adesso tiriamo il filo e andiamo così. Ecco qua, si sistemerà per bene. Adesso dobbiamo farci la solita domanda. Qui abbiamo la linea di tre, ok, allora vuol dire che dobbiamo inserire la 8.0. E ci andiamo a inserire nella rocai 11 che sporge successiva. Tiriamo il filo. Qui dobbiamo chiederci, abbiamo la linea di tre, no? Per qui, vedete, perché ne abbiamo solo due di 11.0. Quindi dobbiamo mettere l'altra 11.0. E ci andiamo a inserire nella rocai 11.0 che sporge successiva, che poi è anche l'ultima della fila. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Anche qui, l'ultimissima riga, in questo caso vedendo orizzontalmente, ha presente insomma solo due rocai 11.0. Quindi vuol dire che dobbiamo inserire l'altra rocai 11.0 e andare a inserirci nella 11.0 che sporge appena sopra, perché dobbiamo risalire. Adesso qui abbiamo la riga di tre rocai 11.0 vuol dire che dobbiamo inserire la 8.0 e fare i gradini con, diciamo, delle 8.0. Prendiamo la 8.0, ci inseriamo nella 8.0 che sporge successiva andando verso l'alto. Ci troviamo così. Qui ovviamente dovremo mettere una 8.0 e andare a inserirci nella 8.0 che troviamo sopra e che sporge. Qual è l'altro numero chiave della nostra lavorazione? Adesso sarà il 5, perché la parte che riguarda le 8.0 presenterà, diciamo, 5.0 qui per riga, ma anche 5.8.0 diagonalmente. Ma vediamo insieme questa cosa. Prendiamo adesso, stiamo uscendo di qua, vedete? Dobbiamo prendere un'altra 8.0 perché non abbiamo una riga da 5.8.0. Quindi prendiamo la 8.0, ci inseriamo nella 8.0 che sporge qui sotto. Tiriamo il filo, vi faccio vedere ogni tanto il lavoro come viene. E poi prendiamo un'altra 8.0 e ci inseriamo nella rocai 8.0 che sporge. Il filo è un po' lungo all'inizio, come sapete, dà un po' di fastidi. Qui abbiamo la riga di 3, quindi vuol dire che dobbiamo aggiungere la 8.0. E ci andiamo a inserire nella 11.0 che sporge e tiriamo il filo. Ecco qua. Adesso interrompo un attimo e ci rivediamo tra pochissimo. Ora, cosa facciamo adesso? Vedete, abbiamo la fascia. Questo passaggio con le 15 è, diciamo, a parte, tra virgolette, perché è l'inizio della lavorazione. E come vi dicevo, ce ne devono essere 4 di 15.0. Qui ce ne devono essere 3 per riga e in effetti ce ne sono 3 per riga di 11.0. Adesso qui, come vi dicevo, vi gira regola del 5 e quindi qui abbiamo già in diagonale le 5 rocai 8.0. Qui invece, orizzontalmente, ancora no, perché dobbiamo completare il nostro triangolino che si verrà a formare. Però cosa succede adesso? Dobbiamo fare attenzione perché qui, secondo il lavoro e il disegno, diciamo, che ho fatto io, in particolare per gli orecchini, dobbiamo adesso inserire, infatti, una 11.0. E prendiamo la 11.0 e ci andiamo a inserire nella 8.0 che troviamo qui sopra. E adesso vedrete perché. Perché poi questo sarà l'inizio, diciamo, della fascia diagonale di 11.0 che andrà in questa posizione. Come ne vedete l'ago, come lo sto mettendo così. Quindi qui partirà l'altra fascia diagonale di 11.0. Intanto completiamo il nostro triangolo di 8.0 mettendo un'altra 8.0 e andando nella 8.0 che sporge successiva. Prendiamo un'altra 8.0 e andiamo nella 8.0 che sporge successiva. Poi prendiamo un'altra 8.0 e ridiscendiamo giù nella 8.0 che sporge. Poi tiriamo il filo per bene, prendiamo un'altra 8.0 e dobbiamo andare a inserirci qui nella 8.0 che sporge. Però ovviamente adesso qui dobbiamo mettere una 11.0 in questo punto perché il triangolino inizia a comporsi, questo delle 8.0 e invece dobbiamo iniziare la scaletta, tra virgolette, delle 11.0. Non fa niente che vi sembrerà che tira un po' il filo adesso in questo punto perché dipende dalla differenza di misura delle ruocaio ma è proprio così, anche se questo triangolino verrà un po' più bombato, è proprio così, come vi ho fatto vedere all'inizio, che deve venire. Ci andiamo a inserire nella ruocaio 11.0 che abbiamo qui sotto e tiriamo il filo. Ci troveremo così, poi che facciamo? Prendiamo ovviamente un'altra 11.0 e risaliamo su nella 11.0 che troviamo andando dal basso verso l'alto. Anche qui c'è il nostro triangolo di ruocaio 8.0 ma adesso invece dobbiamo mettere la 11.0 e ci dobbiamo infilare in questo punto, ci troviamo così, poi qui invece dobbiamo completare il triangolino delle 8.0, quindi prenderemo la 8.0, ci andiamo a inserire nella ruocaio 8.0 che sporge qui su e tiriamo il filo. Poi dopo prendiamo un'altra 8.0 e ci andiamo a inserire nella ruocaio che sporge successiva, cioè successiva che troviamo andando dall'alto verso il basso. Tiriamo bene il filo ed ecco che finalmente il triangolo di 8.0 è completato e quindi adesso dobbiamo mettere la 11.0. in questo spazio qua e andarci a inserire nella 11.0 che sporge, che troviamo andando dall'alto verso il basso. Poi prendiamo un'altra 11.0 e ci andiamo a inserire nella ruocaio che sporge qui sotto. Ci troviamo così. Adesso vi starete domandando cosa dobbiamo mettere qui? Dobbiamo mettere un'altra 11.0 perché a partire da questo punto parte l'altra fascia delle 11.0, come vi dicevano, e quindi anche questa deve essere composta da tre ruocaio. In totale ne avremo sei, ma abbiamo tre di qua e tre adesso dobbiamo completare da questo lato per tutta l'altezza della fascia. Quindi intanto prendiamo una 11 e ci inseriamo qui sopra nella ruocaio che sporge, andando dal basso verso l'alto, tiriamo il filo e avremo la prima riga di tre che si completa. E poi andiamo avanti, quindi qui dobbiamo inserire comunque la 11.0 e andare a inserirci nella 11.0 che si trova sopra. Poi ancora dobbiamo inserire, prendere la 11.0 e andarci a inserire nella ruocaio 8.0 che si trova sopra e che sporge e ci troviamo così. Poi prendiamo un'altra ruocaio 11 e adesso dobbiamo scendere qui nella ruocaio 11 che troviamo dall'alto verso il basso e che sporge. Tiriamo bene il filo perché adesso ci sarà un po' di differenza tra le ruocaio che creerà questi spazietti impercettibili comunque di filo che poi tra le ruocaio, ma è proprio così che deve venire. Come vi dicevo, questo viene a risultare un po' bombato, ma è proprio così che deve essere. Ma d'altronde anche nella collana originaria che viene fatta con questa tecnica della Cellini Flat è così che funziona. Poi prendiamo un'altra ruocaio 11 e ci inseriamo in questa ruocaio 11 che sporge. Prendiamo ancora un'altra ruocaio 11, eccola qui, e ci inseriamo in questa ruocaio 11 che sporge. A tra poco! Ovviamente mi fermo per motivi tecnici, per questo non faccio tutto un video perché in caso di errore sarebbe un po' complicato. Ma siamo arrivati a questo punto, abbiamo qui 3 e 3 ruocaio 11, quindi una riga di 6 che poi si viene a formare dall'unione di queste due fasce in diagonale. Quindi è arrivato il momento di riprendere le 15-0. Prendiamo la 15-0 e andiamo a inserirci nella ruocaio 11-0 che sporge, che troviamo dal basso verso l'alto. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Adesso però qui, vedete, riga di 3, riga di 3, qui la riga di 3 non è completa, quindi vuol dire che dobbiamo inserire la 11-0 e andarci a inserire nella ruocaio che sporge successiva, che troviamo sempre dal basso verso l'alto. Poi prendiamo un'altra ruocaio 11-0 e ci andiamo a inserire sempre nella ruocaio che sporge, che troviamo andando verso l'alto. e tiriamo il filo. Qui nel ridiscendere ci vuole sempre un'altra ruocaio 11-0 e andiamo a inserirci in quella che sporge andando dall'alto verso il basso. Tiriamo bene il filo un attimo e poi dobbiamo, in pratica, mettere un'altra ruocaio 11-0 e andarci a inserire in questa ruocaio 11-0 che viene sotto, che troviamo sotto. E' così. Adesso però dobbiamo fare attenzione perché qui abbiamo già la righina di 3 ruocaio 11-0, quindi dobbiamo prendere una ruocaio 15-0. Prendiamo la ruocaio 15-0, ci andiamo a inserire nella ruocaio 15-0 che ci troviamo qui sotto. e tiriamo il filo e ci troviamo così, ve lo faccio vedere un po' meglio. Ecco qua, adesso che facciamo? Dobbiamo prendere un'altra ruocaio 15-0 e andarci a inserire nella ruocaio 15-0 che abbiamo qui che sporge. Poi ci chiediamo, è completa la riga di 3-11? Sì, quindi dobbiamo aggiungere la 15 e andarci a inserire nella ruocaio che sporge, che troviamo appena sopra. Poi ci chiediamo ancora, qui è completa la riga delle 11-0? No, e allora dobbiamo mettere la 11-0 e ci andiamo a inserire nella ruocaio 11 che sporge, che troviamo appena sopra. Ecco qua, anche qui la riga di 3-11 non è, scusate questa è un po' più sottile, non è completa, quindi dobbiamo mettere ancora una 11-0. Andiamo dall'alto verso il basso e ci inseriamo nella ruocaio che sporge. Adesso vedete che la fascia delle 11-0 è completa? 3-3-3, tutti qui da questo lato, qui abbiamo l'altra fascia e ecco che già il nostro design si va a completare. Però dobbiamo terminare e poi vi devo far vedere come proseguire. Allora, qui come vi dicevo, la riga di 3 è completa, quindi ci vuole una 15-0 che andiamo a inserire nella 15-0 che troviamo appena sotto e che sporge. Poi prendiamo una ruocaio 15-0 ancora e ci andiamo a inserire nella ruocaio 15-0 che troviamo sotto e che sporge. Ok, così. E adesso dobbiamo prendere un'altra 15-0 e andarci a inserire nella ruocaio che troviamo qui sopra, 15-0 che sporge. E adesso dobbiamo prendere un'altra ruocaio 15-0 e andare a inserirci nella ruocaio che sporge successiva, qui dal basso verso l'alto. Prendiamo ancora un'altra ruocaio 15-0 perché qui la riga di 3 è completata e arriviamo in questo punto. Adesso cosa succede che qui per il triangolino che si verrà a formare di ruocaio dorate, queste 15-0, vale la stessa regola che valeva per il triangolino delle ruocaio 8-0. Cioè avrà 5 ruocaio per base e 5 sulle diagonali. Quindi noi abbiamo già fatto, vedete, le 5 in diagonale, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi adesso qui andrà la 11-0 che formerà un'altra righina di 6 come questa che sta al vertice del triangolino di 8-0. Ma adesso ovviamente la guardiamo insieme. Perché vi dico questo? Perché appunto è arrivato il momento di mettere una 11-0 adesso, anche se la riga di 3 è completa, ma qui la dobbiamo fare da 6, che andrà a posizionarsi sopra il triangolino di ruocaio 15-0. Con questa ruocaio ci andiamo a inserire nella ruocaio 15-0 che sporge, tiriamo il filo, prendiamo adesso, dobbiamo completare il triangolino delle 15-0, quindi prendiamo una ruocaio 15-0, ci andiamo a inserire nella ruocaio 15-0 che sta sotto e che sporge. Poi prendiamo un'altra ruocaio 15-0 e ci andiamo a inserire nella ruocaio 15-0 che sta sotto e che sporge. E così ci troviamo. Poi dobbiamo proseguire perché qui come base del triangolo non abbiamo ancora 5, vedete, nella riga 5 ruocaio. E quindi proseguiamo con un'altra ruocaio 15-0 che andiamo a inserire risalendo in questa ruocaio 15-0 che sporge. Tiriamo il filo, prendiamo un'altra ruocaio 15-0, scusate, e ci andiamo a inserire nella ruocaio che sta appunto sopra e che sporge. Però adesso, attenzione, perché abbiamo raggiunto, vedete, siamo al vertice del nostro triangolino di 15-0. Quindi qui, in questo punto, dobbiamo mettere la 11-0 e formare i gradini, diciamo, delle 11-0. Quindi prendiamo una, scusate, una 11-0, ci andiamo a inserire nella 11-0 che sporge, che troviamo qui sopra. E così ci troveremo. Ecco qua. Adesso, per tornare giù, dobbiamo prendere una 11-0 e ci inseriamo nella 11-0 che sporge. E poi ancora, dobbiamo prendere una 11-0 ancora, perché dobbiamo formare i gradini di questa scaletta di 11, e ci andiamo a inserire nella 15-0 che sporge, e invece qui, tirato il filo qui, dobbiamo invece mettere una 15-0 per completare il triangolino, ancora non è completo, e ci andiamo a inserire in questo punto. E per completarlo del tutto, ottenendo 5 ruocaie 15-0 come base nel triangolo, mettiamo l'altra 15-0 e ci inseriamo dal basso verso l'alto in questa ruocaie 15-0 che sporge. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua. E come vedete, appunto, come vi dicevo, il triangolino è formato, è terminato, e ha 5 ruocaie 15-0, quindi diagonalmente, altre 5 diagonalmente, altre 5 di base. Ora, infatti, qui sopra dobbiamo mettere, stiamo andando dal basso verso l'alto, un'altra ruocaie 11-0 e ci andiamo a inserire nella ruocaie 11-0 che troviamo sopra e che sporge. Poi, qui dobbiamo mettere ovviamente una ruocaie 11-0, andarci a inserire, vedete, nella ruocaie che sporge, che troviamo sopra, e ci ritroveremo così. Poi, prendiamo un'altra 11-0 e ci andiamo a inserire nella ruocaie che sporge qui, andando dall'alto verso il basso. Tiriamo il filo, poi prendiamo un'altra ruocaie 11-0 e ci andiamo a inserire nella ruocaie che sporge qui, successiva. Tiriamo il filo, ci ritroviamo così, poi prendiamo un'altra 11-0 e ci andiamo a inserire nella ruocaie 15, l'ultima che abbiamo qui sotto, che sporge, tiriamo il filo e ci ritroviamo così. Quindi siamo pronti per fare l'altra fascia diagonale di 11-0. Io andrò avanti fino al punto in cui inseriremo la prima 8-0, perché mi sembra questo un punto riconoscibile dal quale voi potrete ricominciare a fare ovviamente il triangolo di 8-0, scusate, e così via. Però poi magari ci rivediamo alla fine per vedere insieme la parte finale e poi ovviamente ci rivediamo per collegare questa struttura ai cerchi. Ma andiamo con ordine. Intanto prendiamo la 11-0 e ci andiamo a inserire, perché come vi dicevo il triangolo di 15 è terminato, ci inseriamo nella 11-0 che troviamo qui sopra e che sporge e tiriamo il filo e poi proseguiamo ancora con la 11-0 e ci andiamo a inserire nella 11-0 che troviamo sopra. Quindi penso che adesso il meccanismo ormai sia chiaro, dobbiamo solo fare attenzione a contare un po' le ruocaie e a vedere quando dobbiamo cambiare misura di ruocaie. Quindi prendiamo la 11-0 e andiamo qui su, appunto, e qui in questo punto, come vi dicevo, abbiamo completato la riga di 6 ruocaie 11-0, quindi 3-3 che corrispondono alle due diverse fasce e quindi è arrivato il momento di mettere la 8-0, la prima 8-0 del nostro triangolino. Prendiamo la 8-0 e ci inseriamo nella ruocaie che sporge successiva. Ecco, io mi fermerei in questo punto perché da qui, ripeto, è facile per voi, ma poi vi scriverò il minuto preciso, vedere da dove ricominciare per fare tutto il resto. Ovviamente vi scriverò, appunto, come vi dicevo, il minuto e ovviamente questi triangoli andranno ripetuti per altre due volte, cioè, nel senso, andranno fatti tre triangoli con le 8-0, quindi questo già fatto e altri due, e due triangoli con le 15-0, come nella struttura che vi faccio vedere, quella già fatta, eccola qui. Vedete? Qua siamo ovviamente capovolto, non l'orecchino. Comunque abbiamo da completare gli altri due triangoli e qui fare l'altro con le 15-0, ovviamente sempre le diagonali con le rocaie, l'asset, turquoise. Adesso io completo la lavorazione fino a questo punto per vedere come fare insieme la fine. Va bene? Intanto poi voi proseguite in base a questo meccanismo che abbiamo visto finora e che spero di avervi spiegato al meglio, sia per chi conosceva già questa tecnica, sia per chi magari non la conosceva o non l'aveva quantomeno mai sperimentata. A tra poco! Ecco, giunti a questo punto, terminiamo insieme la lavorazione. Vedete, ho fatto i tre triangolini rossi, diciamo, i due dorati con le 15-0 e però qui dobbiamo fare l'altro mezzo triangolino per terminare. Ripeto, lo facciamo insieme solo per, vedete, questo qui ci manca, solo per vedere appunto dove e come dobbiamo fermarci. E qui abbiamo la riga di 6 rocaie 11-0, quindi possiamo iniziare a inserire le 15. Prendiamo una 15-0 e andiamo a inserirci nella rocaie che troviamo sopra 11-0 che sporge. Poi prendiamo, scusate, qui invece una 11-0 perché non abbiamo completato la riga di 3 e ci andiamo a inserire in questo punto. Qui prendiamo una 11-0 e ci andiamo a inserire sempre nella rocaie che sporge e che troviamo sopra. Qui dobbiamo ridiscendere con le 11-0 perché non abbiamo completato la riga di 3 e quindi inseriamo la 11-0 e andiamo nella rocaie che sporge e che proviamo dall'alto verso il basso. Qui prendiamo ancora un'altra 11-0 perché non abbiamo completato la riga e ci andiamo a inserire nella rocaie 11 che sporge successiva. Poi qui abbiamo completato la riga di 3, allora dobbiamo mettere la 15-0. Ecco qui, ci andiamo a inserire nella rocaie 15-0 che sporge e che abbiamo sotto. Tiriamo il filo e ci troveremo così. Nel risalire su riprendiamo la 15-0 e ci andiamo a inserire nella 15-0 appena giunta tenendo ben tirato il filo. Così, adesso vi farò vedere. Poi prendiamo, visto che qui abbiamo completato la riga di 3, un'altra 15-0 e andiamo a inserirci qui nella rocaie che sporge e che troviamo sopra. Qui invece non abbiamo completato la riga delle 11, quindi dobbiamo mettere una 11-0. E ci andiamo a inserire nella rocaie che sporge e che troviamo qui sopra. Tiriamo il filo, qui non abbiamo completato la riga, quindi prendiamo la 11-0 e ci inseriamo nella 11-0 che sporge andando dall'alto verso il basso. E quindi qui la riga delle, scusate, diciamo la riga, la fascia delle 11-0 in diagonale l'abbiamo completata. Infatti adesso dobbiamo aggiungere solo le 15-0. Prendiamo la 15-0 e ci andiamo a inserire nella 15-0 che sporge qui sotto. Prendiamo l'altra 15-0 e ci andiamo a inserire nella 15-0 che sporge qui sotto. E tiriamo il filo, prendiamo l'altra 15-0 e ci andiamo a inserire nella 15-0 che abbiamo qui sopra, che abbiamo appena messo. Devo tagliare un po' il capo che sporge dall'ago perché dà un po' fastidio. Ci vediamo tra un attimo. Tiriamo il filo, dicevo. Poi prendiamo un'altra 15-0 e ci andiamo a inserire qui nella 15-0 che sporge qui su. Poi prendiamo un'altra 15-0 e ci andiamo a inserire nella 11-0 che sporge qui su. E adesso dobbiamo fare gli ultimissimi passaggi, cioè prendiamo una 15-0, eccola, e ci andiamo a inserire in questa 15-0 che sporge tirando bene il filo. E poi dobbiamo inserire anche qui una 15-0 e andare in quella sotto. un'altra 15-0 e andare nella rocai sotto. E poi adesso dobbiamo inserire un'altra rocai 15-0 e andarci a inserire in questa rocai che troviamo sopra. Qui sotto ci dovremo fermare perché abbiamo raggiunto il famoso numero 4 di cui vi parlavo all'inizio, 4, 15-0 di base, che corrispondono più o meno alla metà del triangolo, ma una metà, cioè un po' più della metà, ecco. Poi prendiamo un'altra 15-0 e ci andiamo a inserire nella 15-0 che abbiamo qui sopra e prendiamo un'altra. E questa è l'ultima, proprio, 15-0 e ci andiamo a inserire nella 15-0 che abbiamo qui sopra. Quindi queste sono le 15-0 che dobbiamo inserire alla fine, rimango un po' ferma così così potete regolarvi, come vedete, qui abbiamo 4 di base e qui rimarrà quella singola, così. Adesso dobbiamo risalire su, praticamente, nella lavorazione, adesso vi faccio vedere perché poi dovremo agganciarci all'anello, al cerchio, diciamo, degli orecchini. A tra poco. Ecco, ho tolto le rocai dallo sfondo perché non ne dobbiamo più aggiungere. Per risalire su, perché noi stiamo vedendo l'orecchino così, ma ovviamente dovremo metterci in questa posizione, che facciamo? Stiamo uscendo da questa rocai singola 15-0, ci andiamo a inserire nella rocai accanto questa 11-0 che troviamo sulla sinistra e poi da qui risaliamo nelle rocai 15-0. Quindi, procediamo, potremmo proseguire così, perché tanto queste sono delle diagonali che si formano e possiamo percorrerle per arrivare alla punta, diciamo, estrema della nostra lavorazione, che è questa. Andiamo ad uscire da questa rocai, la quarta delle rocai che formano la base di questo mezzo, diciamo, tra virgolette, triangolino. Bene, da questo punto ci rivediamo tra pochissimo. Ora, cosa dobbiamo fare per agganciarci al cerchio, al nostro cerchio, al nostro orecchino? Quindi dobbiamo avvicinarci al lavoro. Io comunque proseguirei in questa posizione per comodità, perché adesso noi ci troviamo ad uscire così dalla rocai U15-0. Andiamo ad attraversare questo anello, diciamo, questo nostro cerchio di metallo, andiamo a inserirci nella stessa rocai dalla quale stiamo uscendo, vedete? Ma andiamo dal basso verso l'alto e ci assicureremo quindi all'anello di metallo, così, in questo modo. Però per proseguire andiamo accanto e ci inseriamo in questo punto, vedete, nella rocai accanto nella seconda, andiamo così, passiamo sotto là nel cerchio di metallo e però ci andiamo a inserire passando da sopra nella seconda rocai U15-0. Tiriamo il filo e andiamo nella rocai accanto che era la terza U15-0 partendo da destra. passiamo sotto l'anello di metallo e per risalire passiamo sopra l'anello di metallo, in questo modo, così, piano piano, tiriamo il filo e quindi andremo ad assicurarci, ad assicurare la lavorazione al cerchio di metallo. Andiamo nella rocai accanto, passiamo sotto al cerchio e poi passiamo invece sopra per rinfilarci nella stessa rocai dalla quale stiamo uscendo, ma dal basso verso l'alto. Guardate, vi faccio vedere bene così. Vedete il filino di nylon come si vede? è sottile ma si vede. Ovviamente siamo ancora in tempo per spostarci, per regolarci bene lungo la distanza. Intanto proseguiamo. Quindi nella rocai accanto passiamo sotto il cerchietto e risaliamo passando sopra il cerchietto, infilandoci nella rocai 11.0 dal basso verso l'alto, poi andiamo nella rocai 11.0 accanto passando sotto il cerchio e poi risaliamo nella stessa rocai ma dal basso verso l'alto, andiamo ancora accanto, io adesso accelero un po' perché diciamo il meccanismo è abbastanza chiaro, credo, spero, e poi risaliamo nella rocai 11.0 dalla quale siamo partiti, ma passando sopra il cerchietto di metallo e ci troviamo così. Adesso vi faccio vedere bene. Andiamo ancora avanti, andando verso la sinistra nella rocai accanto e tirando il filo e poi passando sopra invece il cerchietto e ci inseriamo nella stessa rocai dalla quale stavamo uscendo e così ci ancoriamo all'orecchino, andiamo ancora avanti andando verso sinistra nella rocai che sta più a sinistra e risaliamo nella stessa rocai dal basso verso l'alto, andiamo ancora accanto nella rocai 11.0 a sinistra e tiriamo il filo e poi risaliamo nella stessa rocai dal basso verso l'alto, tiriamo il filo e ci rivediamo tra pochissimo. Ecco adesso, vedete, dobbiamo tirare il filo, dobbiamo andare sì nella rocai 15.0 accanto, ma non ci ancoreremo alla struttura di metallo, all'anello di metallo, perché qua, vedete, c'è questa parte che si ritrae un pochino, quindi noi questa parte non la faremo aderire all'anello per motivi tecnici. Quindi passiamo attraverso le rocai, vedete come sto facendo io, quindi qui per esempio dall'alto verso il basso, passiamo in questa rocai e in quella rocai accanto, passiamo dal basso verso l'alto, quindi le attraversiamo semplicemente senza agganciarci alla struttura. Andiamo in quella accanto, dall'alto verso il basso e poi andiamo a questo punto nella 11.0 accanto e però poi dobbiamo andare ancora accanto in quest'altra, vedete, verso sinistra e poi lì torneremo indietro per ancorare quella 11.0. Intanto usciamo dalla seconda 11.0, vedete, passiamo da sotto e poi risaliamo nella stessa 11.0 verso sopra. Adesso recuperiamo questo punto che diciamo non ci trovavamo ad ancorare per motivi tecnici e quindi ritorniamo indietro, scendiamo nella prima 11.0 dopo le 15, andiamo giù, spassiamo sotto l'anello di metallo e invece poi risaliamo passando sopra l'anello di metallo. Quindi adesso poi andiamo ancora accanto e ripetiamo il passaggio, c'è questo piccolo sfasamento dovuto al fatto che sono dispari le rocai 15.0 e rifacciamo, in questo caso rinforziamo un po' di più, male non farà, andiamo accanto ancora nella rocai più a sinistra 11.0 sempre, passiamo sotto l'anello di metallo, vi assicuro che così è più pratico, passando prima sotto e poi sopra, tiriamo il filo e risaliamo nella stessa rocai dalla quale stiamo scendo, ma dal basso verso l'alto, andiamo ancora accanto, nella rocai accanto verso sinistra, scendiamo sotto l'anello di metallo, sotto il cerchio di metallo, da 4 cm vi ricordo, risaliamo nella stessa rocai dal basso verso l'alto, andiamo nella rocai accanto, il filo non vi preoccupate perché si nasconderà e si sistemerà in questo modo, poi risaliamo qui nella stessa rocai dalla quale stiamo uscendo, poi andiamo nella rocai accanto passando sotto il cerchietto e poi ancora risaliamo nella stessa rocai dal basso verso l'alto e adesso cosa succede? Che succede che di nuovo dobbiamo passare sì nelle rocai 15.0, ma senza attaccarci all'anello, al cerchio, diciamo, dell'orecchino di metallo, quindi qui andiamo giù nella rocai 15.0, però poi tiriamo sì il filo, non troppo, ma poi passiamo in quello accanto senza passare appunto attraverso, diciamo, sopra e sotto il cerchietto di metallo. Quindi andiamo accanto e poi ancora accanto dal basso verso l'alto e poi ancora accanto in questa rocai e poi nella rocai 11. Qui dovremo fare, diciamo, lo stesso piccolo trucchetto che abbiamo fatto prima, quindi usciamo dalla seconda 11.0 che abbiamo accanto qui andando verso sinistra. Adesso passiamo sotto il cerchietto di metallo, risaliamo nella stessa seconda rocai 11.0 che avevamo dopo le 15 e poi andiamo invece adesso un po' indietro, è sicuro che poi tutto si sistema qui nella prima delle 11.0, risaliamo su nella stessa prima rocai 11.0 di questa sequenza, rifacciamo il passaggio nella seconda rocai, che comunque male non fa, risaliamo ancora nella stessa rocai dalla quale stiamo uscendo, ma dal basso verso l'alto, poi andiamo finalmente nella terza, passando sotto al cerchietto di metallo e poi risaliamo su nella stessa rocai dal basso verso l'alto, andiamo invece dall'alto verso il basso in quest'accanto, così, poi risaliamo nella stessa rocai che abbiamo appena attraversato ma dal basso verso l'alto, poi andiamo nella rocai accanto, che è la quinta, usciamo sotto l'anello e poi passiamo sopra l'anello di metallo sempre dal basso verso l'alto, poi andiamo ancora accanto nell'ultima rocai 11.0 e andiamo di nuovo su nella rocai 11.0, ma passando dal davanti e dal basso verso l'alto, quindi questo l'abbiamo fatto, vedete poi questi appunto come vi dicevo diventano un po' bombati, che è poi quello che succede anche nella collana, quando si fa la collana. Però quest'ultima parte la dobbiamo ancorare, qui no, come abbiamo visto abbiamo saltato questi triangolini delle rocai dorate centrali, ma qui lateralmente sì, perché insomma per motivi estetici dobbiamo attaccarci alla lavorazione. E quindi andiamo ad uscire da questa rocai 15.0, sempre passando da sotto al cerchietto di metallo e poi passiamo sopra il cerchietto di metallo e dal basso verso l'alto attraversiamo la rocai 15.0, poi andiamo nella rocai accanto sempre sotto e poi andiamo a risalire sopra nella rocai 15.0 e poi ancora in quella accanto e poi ancora sopra, poi ancora in quella accanto e andiamo a passare a fissare l'ultimo passaggio qui in fondo nella rocai. ecco qua. Ci troveremo così, vedete l'olecchino è ben ancorato, è abbastanza anche centrato, se non vi convince il punto in cui avete iniziato potrete spostarlo un attimo, ma secondo me è soddisfacente così, poi vediamo come sta indossato. Adesso però dobbiamo fermare i fili, quindi ci vediamo tra un po'. Come vi dicevo, dobbiamo nascondere solo i capi del filo e abbiamo terminato. E allora, innanzitutto qui stavamo uscendo dalla rocai, vedete questa qui, l'ultima 15.0 e andiamo a inserirci qui sotto, vedete nella 11.0 che si trova diagonalmente sulla sinistra, appena un po' sulla sinistra, tiriamo bene il filo e poi andiamo ancora sotto, ancora più verso sinistra, ecco qui, andiamo ancora sotto, qui giù e poi andiamo nella 11.0, sempre in diagonale, che incontriamo in pratica e poi andiamo anche nell'altra 11.0 e qui praticamente ci andiamo a inserire in questo punto, vedete proprio dove c'è il filo che passa tra una rocai e l'altra e facciamo un nodino, un paio di nodi che comunque non si vedranno, non vi preoccupate, adesso noi li vediamo così ravvicinati ma poi non si vedranno per sicurezza perché potremmo sì nasconderci nelle rocai però, e lo faremo anche ancora adesso, però due nodi è meglio farli. E andiamo poi su nella rocai accanto e a questo punto possiamo infilarci anche qui in diagonale, vedete così, nelle rocai che incrociamo lungo la strada e anche qui in quest'altra rocai e poi andiamo su e tagliamo finalmente il filo. E questo è uno, va bene, un capo che abbiamo eliminato. E invece poi, vedete, tagliamo così e invece abbiamo l'altro capo, che era quello che avevamo lasciato all'inizio. e adesso vi faccio vedere come sistemare anche questo. Allora, per mettere via anche questo capo del filo, io di solito che faccio? Per non stare a fare di nuovo la punta a questo filo e metterci l'ago numero 12, numero 11 nel nostro caso, io prendo un'ago apribile e mi vado a inserire così per sbrigarmi prima in pratica e comunque questo passerà adesso almeno di sicuro nelle rocai 11.0. Visto che ci troviamo a uscire da questo punto, ci inseriamo nella 11.0 che sta accanto, poi magari in quella che viene appena sopra. Questo è giusto per velocizzare, altrimenti potreste appiattire la punta e infilare l'ago normale. Io ho questi anche apribili e mi piace utilizzarli per questo scopo qui. Come vi dicevo, andiamo su così la nascondiamo nella lavorazione. Però anche questo, se vogliamo fare un piccolo nodino, scendiamo di nuovo giù, per sicurezza, ma qui diciamo che ce n'è già meno bisogno, però per sicurezza andiamo a scendere magari qui, perché no, anche nelle 8.0, ma sempre diagonalmente, quindi gradualmente. Vedete, in effetti c'è i suoi svantaggi, perché poi è un po' morbido questo ago e adesso mi sta creando un po' di problemi. Ecco qua. Poi andiamo nella 8.0, così facciamo prima, sempre attraversandone una alla volta, così, andiamo nell'altra 8.0, andiamo magari in questa, insomma dobbiamo percorrere un po' le perline che abbiamo già sul lavoro e facciamoli un paio di nodi, così stiamo più tranquilli e, insomma, possiamo andare avanti poi a fare l'altro orecchino. Ecco qui, fatti i due nodi, risaliamo ovviamente nelle rocai, se riusciamo ad attraversarle un paio alla volta ancora meglio, ma dubito, perché questo ago, come vi dicevo, è morbido, e passiamole una alla volta. Lo facciamo insieme solo perché, vabbè, questo video verrà lunghissimo, ma ci tengo a farvi vedere un po' tutto. Ecco qui. Lasciamolo lungo, anche perché ne è avanzato tanto, anche effettivamente, seppure abbiamo tagliato 1,70, forse anche 1,60 è sufficiente di filo in realtà. Vabbè, io mi fermo adesso. Voi sapete benissimo come assicurare al lavoro il filo. Ecco, questo è l'orechino terminato. Noi ci vediamo tra un po' con entrambi gli orechini. terminati e perché no, magari saremo in compagnia delle altre versioni per salutarci. Ovviamente ci vediamo tra pochissimo. Ecco allora gli orecchini afterglow terminati. Come sempre, io spero che vi piacciano. Qui abbiamo le altre versioni, ma io spero di vedere tante delle vostre versioni, perché in questo caso potrete assolutamente svizzarrirvi con i colori più disparati che avete di Rokai, di tutti appunto i tipi, sia Touke e Miyuki. Quindi io non vedo l'ora di vedere le vostre versioni. Spero che vogliate taggarmi nel caso in cui le idealizziate. Vi ringrazio sempre per il vostro sostegno, perché siete voi che mi date la carica per inventare sempre nuove cose. Non vedevo l'ora di farveli vedere, quindi sono felicissima di aver finalmente pubblicato il tutorial. Ringrazio anche il sito semplice bijou per la consulenza e per i materiali che ci fornisce. E poi vi do l'appuntamento alla prossima occasione, quindi al prossimo tutorial e al prossimo video. Vi saluto, grazie ancora, a presto!